E' nata per battere ogni record. Del resto una che a 15 anni e 314 giorni vince la sua prima medaglia olimpica, la più giovane nella storia dello sport italiano, non può in certo porre limiti. E allora Ariana Fontana archivia la sua quinta olimpiade e lucida le 11 medaglie che ne fanno l'azzurra più vincente di sempre. Ieri la festa nella sua berbenno, paese che forse una volta mai avrebbe pensato di entrare con la frazione polaggia nella storia degli sport invernali. La domanda è la più banale che c'è, ma è quella che fanno i tifosi. Ti vedremo anche a Milano Cortina 2026? Se ci sarò o non ci sarò, quello vedremo, però è un'occasione grandissima averle in casa, proprio in Valtellina in Italia, è qualcosa di davvero unico, speciale e sarà sicuramente qualcosa di grandioso. Ariana Fontana è più di Stefania Belmondo, dieci medaglie nello sci di fondo, è più di Valentina Vezzali, nove volte sul podio olimpico nella scherma. Ariana Fontana è a due medaglie dal record d'assoluto, tra olimpiadi estive e invernali, che appartiene al mito della scherma, Edoardo Mangiarotti. Altro sport, altra epoca, forse anche altre tensioni. Ariana è il presente, speriamo anche il futuro, un mito dello sport moderno che da tanto ma logora anche. Non ancora credo, vedremo quando magari riunirò tutte le medaglie tutte insieme che sensazione avrò. Buonasera.